Bentornati ragazzi, stasera si gioca la finale più attesa della nostra nazionale da almeno 14 anni perché quella del 2012 era alquanto inattesa questo invece qualcosa c'era nell'area che potevamo arrivare lontano e lontano siamo arrivati, siamo arrivati in finale ragazzi siamo arrivati in finale con una squadra che onestamente non era la favorita perché le favorite erano altre, erano il Belgio, la Francia, la stessa Spagna in qualche modo anche un po' il Portogallo, sicuramente non noi perché noi abbiamo avuto un calendario di partite, di qualificazioni anche il Nations League, il Girone, piuttosto facilotti secondo alcuni invece io dico di no, io dico che sicuramente se siamo arrivati qua è per meriti non perché siamo stati aiutati da favori arbitrali o cose così anche perché così ragiona uno che non capisce assolutamente niente di calcio e vive la giornata e soprattutto ragazzi sale sul carro del vincitore dopo anni che ha preso in giro la nostra nazionale dandole contro ogni volta, assolutamente no e allora guardiamo subito le formazioni perché cominciamo con l'Italia in Portagigio Donnarumma che va a giocarsi la sua 33esima partita in azzurro difesa con Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Emerson Bonucci e Chiellini è facile che insieme giochino la loro ultima partita in azzurro perché sono sicuro che comunque vada, Chiellini lascerà dopo aver appunto raggiunto un caposaldo come Dino Zoffa, 112 presenze Di Lorenzo mi ha convinto parecchio ma Emerson un pochino di meno e si sente troppo la mancanza di Spinazzola però onestamente al posto di Di Lorenzo avrei provato questo benedetto Florenzi che alla fine ha giocato una partita è stato forse tra quelli più inutilizzati dal punto di vista delle gare e dei minuti pazienza centrocampo ormai irremovibile con Barrella, Giorginio e Verratti Locatelli è facile che entri a gara in corso comunque vada e tridente d'attacco con Chiesa, Immobile e Insigne una piccola nota per Immobile Immobile deve ragazzi maledettamente sbloccarsi non è possibile che il nazionale faccia queste partite così mediocre quando una sua Lazio gioca la partita della vita non è possibile ragazzi, non è possibile anche perché purtroppo dietro non abbiamo dei mostri in attacco abbiamo solo Immobile comunque invece andiamo sulla formazione dell'Inghilterra che va a giocarsi la sua prima finale di un europeo la seconda finale dopo 55 anni dopo quella mondiale del 66 mezzo rubato e allora in porta Pickford difesa 4 con Walker, Stones, McGuire e Shaw brutto da dire ragazzi ma loro sono messi molto meglio in difesa che noi la loro è una difesa che ha subito un solo gol in 6 partite e quindi questo qualcosa vorrà pur dire insomma bisogna penetrare bene nello spazio dei difensori centrocampo con Phillips, Rice e Mount anche questo è molto interessante come centrocampo e invece attacco con Saka, Kane e Sterling Kane è capitano allora un'ultimissima nota io mi aspetto la partita della vita nel senso che torniamo a giocarci un titolo europeo dopo 9 anni 9 anni molto intensi in cui abbiamo avuto più bassi che alti più bassi ragazzi che alti perché nel mezzo c'è stato un mondiale mancato e un mondiale in cui siamo usciti subito al primo turno quindi assolutamente no e anche in ogni caso come vada questo torneo bisogna far sì che sia un punto di partenza non di arrivo perché Giorgio Chiellini è facile che lasci dopo questa partita non penso che giochi anche le Finals da Nations League oddio me lo auguro però non penso ormai c'è bisogno di nuove leve comunque forza azzurri ragazzi stasera tifiamo gli azzurri chi non tifa l'azzurro può andare benissimo a vivere nell'Hondura solo nello Zimbabue ma stasera ragazzi con tutto il cuore bisogna tifare l'azzurro a prescindere dai propri colori di appartenenza e allora forza Italia a prescindere dai propri colori di appartenenza a prescindere dai propri colori di appartenenza